Buonasera, eccoci qua. Marco, siamo in piena estate, tutti vanno fuori alla sera al mare, com'è la situazione? Caro Marco, eccoci qua, buonasera. La situazione, beh, in Liguria potrebbe andare meglio, nettamente meglio, però a livello nazionale i numeri continuano a essere moderatamente ottimisti, abbiamo qualche focolaio sparso tra il nord, il centro e il sud, ma per la Liguria oggi non è una bellissima giornata, ma nulla di allarmante. Andiamo con ordine, come sempre Marco, anche oggi facciamo riferimento ai dati nazionali, come abbiamo sempre fatto fin dall'inizio della pandemia, ai dati diffusi dalla protezione civile, dalle singole regioni e dai singoli ministeri, quindi. Allora, andiamo con ordine, come detto il grafico relativo alla protezione civile per i dati nazionali, ci dice che oggi abbiamo 197.431 totali guariti, ovvero sia 269 persone guarite in più rispetto a ieri. Abbiamo anche 12.248 ancora positivi e abbiamo 35.073 deceduti in totale. Questo per quanto riguarda un po', diciamo, l'indice di quello che andiamo a vedere adesso. Andiamo a vedere il grafico 1, Marco. Il grafico 1 ci dice che oggi, martedì 21 di luglio, abbiamo 129 nuovi positivi, un numero che per il terzo giorno è in decrescita rispetto al giorno precedente. Come vedete dall'andamento della curva, abbiamo una costante leggera discesa. Questo anche grazie, lo possiamo dire, è ottimistico questo dato, perché se andiamo a vedere col grafico 3 il numero dei tamponi fatti, oggi come era giusto aspettarsi dopo lunedì, quindi la giornata di ieri che vede ormai abitudinariamente un numero basso di tamponi giornalieri fatti, oggi 43.110. Ben lungi, dei 70.000 passa dello scorso mese, però abbiamo comunque sia un nuovo rialzamento dei tamponi giornalieri fatti, 43.110. Poi andiamo a vedere il grafico 8 che come sempre mette in proporzione questi tamponi fatti totali giornalieri con i positivi venuti fuori e oggi, come abbiamo detto prima, valore basso in generale e valore basso anche a livello percentuale. 0,3%, lo vedete lì? Oggi abbiamo un rallentamento importante rispetto ai giorni precedenti, vedete che abbiamo avuto tutta una settimana trascorsa in costante salita, giorno dopo giorno dopo giorno, oggi torniamo a scendere in maniera importante. Sono sempre percentuali basse, lo diciamo, siamo sempre sotto l'1%, quindi valori molto bassi, però non siamo ancora a 0. grafico 9 per vedere invece le persone trovate positive in tutta Italia, lo 0,5% dei tamponi escludendo quelli di controllo sono risultati positivi, quindi un valore molto interessante. Stiamo parlando di dati nazionali, infatti se noi andiamo a vedere il grafico numero 2, il numero 2 ci fa vedere gli attuali positivi. Attualmente in Italia abbiamo 12.248 ancora positivi al coronavirus, oggi 156 in meno, ma come potete vedere ad esempio domenica c'è stata un'accelerazione, un aumento di questi attuali positivi, quindi in controtendenza rispetto a quello che dovrebbe essere. 156 comunque è un numero che può andare ancora bene, vorremmo vedere scendere maggiormente, però ad oggi non è ancora così. Guardiamo il grafico 7 dei guariti, Marco. Grafico 7 dei guariti giornalieri, come abbiamo detto all'inizio, 269 in salita rispetto a ieri e rispetto a sabato scorso, quindi un numero che ci fa sempre piacere vedere in zona verde. Questo per quanto riguarda i positivi, invece i decessi, grafico 6. Il grafico 6 ci dice che oggi siamo a quota 15. Ricordiamo che la media del mese di luglio è 13 decessi giornalieri. Oggi siamo anche, rispetto al dato del weekend, siamo in aumento, leggero aumento rispetto alla media. Siamo a 35.073, come abbiamo detto all'inizio, il totale dei deceduti con o per il coronavirus. Per quanto riguarda le terapie intensive, abbiamo ancora dei dati da segnalarvi con il grafico 4. Il grafico 4 ci dice che ci sono 49 persone in tutta Italia ancora in terapia intensiva. La cosa purtroppo negativa di questo grafico è che è in aumento, leggerissimo aumento, due persone in tutta Italia sono entrate in più ad aumentare questo valore. Infatti ieri eravamo a quota 47 ricoverati di terapia intensiva, oggi 49. Numeri sempre comunque, ricordiamolo, numeri bassi. Andiamo a vedere il grafico numero 5, per parlare di ospedalizzati, i ricoverati con sintomi oggi sono 732, 3 in meno di ieri. Ricordiamo che ieri addirittura c'è stato un aumento dei ricoverati rispetto al giorno precedente che era domenica. Questo per quanto riguarda il quadro nazionale. Guardiamo il grafico 10, per quanto riguarda la fonte più cospicua dei positivi oggi, vediamo che la Lombardia non è più sola nella macabla classifica, triste classifica dei positivi giornalieri, perché sì, Lombardia è il 26%, ma anche il Veneto segna un 17% e l'Emilia-Romagna il 14%. Queste tre regioni insieme superano ben d'onde il 50% di tutti i positivi della della nostra Italia. Infatti l'Italia, togliendo queste regioni, ha il 43% del totale. Questo per quanto riguarda il dato nazionale suddiviso partendo dalle regioni più colpite. Se andiamo a vedere il grafico 11 invece, scopriamo che cosa. Oggi, 21 di luglio, guardate, i nuovi positivi per milioni di abitanti, quindi pesati sugli abitanti di ogni singola regione, fa vedere però la Liguria, nettamente, possiamo proprio dirlo, nettamente in testa in questa triste classifica rispetto a Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, è addirittura Lombardia. La Lombardia è molto meno della metà oggi dei dati rispetto alla Liguria. Oggi proprio è maglia nera la Liguria come nuovi positivi rispetto alla popolazione, stiamo parlando, rispetto al milione di abitanti ne sono trovati di più. Allora andiamo a vedere i dati della nostra regione, regione Liguria, con i grafici 00, ci dicono oggi che abbiamo più 12 nuovi positivi, siamo a 10.117, abbiamo 5 positivi, attualmente positivi in più rispetto a ieri e abbiamo uno ospedalizzato in più rispetto a ieri, 29 in totale, nessuno fortunatamente in terapia intensiva e 4 in più in isolamento domiciliare. Abbiamo 7 persone guarite in più rispetto a ieri e nessun decesso, la cosa è interessante e propositiva. 1454 sono stati i tamponi fatti nelle ultime 24 ore e per quanto riguarda la competenza del nostro territorio, della ASL, l'ASL 4 segna due persone che sono ancora in ospedale, ancora ricoverate nel reparto non di terapia intensiva naturalmente dell'ASL Ligure. Infatti quindi andando a vedere i grafici, anche il grafico con la AAA 0 ci fa vedere che cosa in rosa. L'andamento dei casi giornalieri nuovi, si può vedere che sulla destra di questo grafico un nuovo rinnalzamento negli ultimi giorni dei casi giornalieri, quindi la Liguria sta andando un po' in controtendenza rispetto alla media nazionale, questo è giusto menzionare. Domande Marco? Andiamo a vedere con la grafica numero 13, ecco ce l'ho fatta, con la grafica numero 13 ci sono tre grafiche 13 che dividono in tre la nostra penisola per far vedere dove sono individuati e localizzati i focolai attivi oppure spenti in Italia. Sono quasi tutti attivi, quello di Savona in Liguria lo conosciamo bene dovuto a una diffusione pandemica all'interno di un ristorante lo scorso fine settimana. Poi abbiamo Bologna e Riccione ancora attualmente attivi come focolai in Emilia Romagna e uno spento in quel di Rimini. In Veneto abbiamo Jesolo e Padova e in Trentino Alto Adige abbiamo un focolaio in Valbadia e uno in quel di Rovereto. Per quanto riguarda invece il centro Italia lo vediamo c'è a Roma a voli da Dacca abbiamo un focolaio attivo così come ad Ostia un altro focolaio attivo. Infine l'ultimo grafico 13 mostra in la zona meridionale del nostro paese il focolaio spento in quel di Avellino e poi a Cosenza e in Calabria e a Mister Bianco e a Modica in Sicilia altri focolai attivi oltre a quello degli sbarchi registrati in Calabria in Sicilia con tanto di immigrati positivi al coronavirus. E poi non ancora segnalato in questa grafica in questa slide ce ne sono anche altri immigrati positivi in Basilicata. Questo per quanto riguarda la nostra Italia. Ora andiamo a vedere il grafico 12 che fa vedere l'Europa e fa vedere nell'ultima settimana quindi un valore medio settimanale i nuovi casi per milioni di abitanti. Nonostante quello che ci siamo appena detti come potete leggere l'Italia è messa bene a livello di nuovi casi rispetto agli altri paesi europei perché ad esempio guardate quanti nuovi casi per milioni di abitanti ad esempio in Svizzera 82, in Austria 84, 106 in Spagna, abbiamo 154 nuovi casi per milioni di abitanti in Svezia e anche il Belgio. L'Olanda e il Regno Unito non se la stanno passando benissimo. Chi se la sta passando meglio rispetto a questi paesi? Appunto la nostra nazione, l'Italia. E' la Norvegia. E' anche la Norvegia. Perfetto, giusto. Per quanto riguarda il grafico 14 Marco, andiamo a vedere un po' come è suddiviso la diffusione dei positivi rispetto all'inizio della pandemia e rispetto all'ultimo mese. Guardate un po' com'è cambiata la situazione. All'inizio della pandemia i positivi con meno di 50 anni erano e sono, perché in totale, il 31%, ma se noi andiamo a pescare, diciamo a estrapolare il dato del solo ultimo mese, quindi da metà giugno a metà luglio circa, guardate come sale il valore dei positivi con meno di 50 anni. Cioè i giovani nell'ultimo mese, in questo periodo estivo, si stanno contagiando molto più degli over 50. Questo è un grosso campanello d'allarme perché dimostra proprio che i giovani soprattutto hanno calato le proprie difese, l'uso dei DPI, dei dispositivi di protezione, ma anche magari l'uso stesso delle accortezze che bisogna avere quando ad esempio bisogna mantenere il distanziamento interpersonale, eccetera. Quindi comunque in generale rispettare le linee guida e i DPCM ultimi ancora vigenti, ricordiamolo che sono ancora tutti vigenti, almeno fino al prossimo 31 di luglio. Andiamo a vedere poi, Marco, parliamo di vaccini, grafico slide 15. Si sta parlando notevolmente in queste ultime ore di vaccini, in particolar modo abbiamo addirittura, leggendo il grafico, vedete dal destra verso sinistra, gli approvati, cioè i vaccini funzionanti al 100% già pronti per l'uso sono ancora a zero. Non esiste ancora il vaccino ufficialmente nel mondo. Però se noi andiamo a vedere, ci sono già tre vaccini usati in larga scala e provati, stanno facendo prove di test avanzato, quindi molto vicini all'approvazione. Tre sono i vaccini, 11 sono in fase 2, cioè stanno espandendo le garanzie di prova sulle persone. In fase 1 invece sono 19, come vedete, sono vaccini all'inizio della sperimentazione e 140 sono addirittura ancora in fase preclinica, ovvero sia non sono ancora stati testati sull'uomo, per intenderci, che è la fase che fa iniziare ufficialmente i test. Questo è un dato aggiornato a ieri 20 luglio e riguarda il dato estrapolato da The Guardian, quindi dal giornale inglese su dati delle Nazioni Unite. Per quanto riguarda invece quali sono, grafico 16, slide 16, i tre vaccini in fase 3, cioè quelli che sono appunto nella fase più avanzata, sono il Sinovac, come si legge là su in cima, che ha sperimentazioni in Brasile e origini cinesi, l'Università di Oxford, di AstraZeneca, che ha origini cinesi ed ha sperimentazioni inglesi nel Regno Unito, e ha sperimentazioni nel Regno Unito, in Sudafrica e in Brasile, e poi c'è l'Università di Melbourne con il proprio Institute, che è il Murdoch Children's Research Institute in Australia, appunto, con le sperimentazioni fatte in casa loro, cioè in una stessa Australia. Questi sono i tre vaccini più avanzati, uno dei tre sicuramente diventerà poi il vaccino ufficiale che verrà poi prodotto, ci auguriamo, il più presto possibile e diffuso in larga scala a livello mondiale. Questo è molto molto importante perché sono notizie che ci fanno ben sperare per la prossima stagione autunnale e invernale. Andiamo a vedere invece col grafico 20 i dati del mondo, ovvero sia, spesso e volentieri, anzi tutte le volte che c'è l'appuntamento ormai con Intellatv, facciamo anche uno zoom sui dati internazionali e mondiali della pandemia. Vediamo sempre gli Stati Uniti d'America in alto, lassù in cima, come stato mondiale più colpito e ancora sta macinando positivi su positivi. Se vedete sulla destra, vedete, è a 3.830.000 casi totali, di cui 2.500.000 e oltre ancora attivi, pensate, in tutto il territorio americano, con giornalmente un aumento di oltre 56.000 casi. Brasile, che è dietro gli Stati Uniti con dati ancora molto forti, oltre 2.100.000 casi totali. L'India segue il Brasile con 1.155.000 casi. La Russia è ancora segnata in maniera importante, anche se l'incremento giornaliero è molto più basso, 776.000 casi. In Sudafrica, Sudafrica sta accelerando purtroppo con 373.000 casi totali. Il Perù con 353.000, il Messico e il Cile si seguono a ruota. Il primo e unico Stato in questa classifica di origini europee è la Gran Bretagna, gli United Kingdom, vedeteli, con quasi 300.000 casi. Quindi, leggendo questa tabella, si capisce che togliendo giusto la Russia e Sudafrica, tutto propende per gli Stati americani, centrali, meridionali e settentrionali, escludendo il Canada. Se noi andiamo a vedere però il grafico 21, il grafico, scusate, la tabella 21, con i dati mondiali aggiornati ad oggi, con i generali, quindi globali, vedete che siamo sulla destra 14.000.000 e 700.000 e oltre casi dall'inizio della pandemia, sempre in accelerazione, 196.000 solo nell'ultimo giorno in più rispetto a ieri. E anche gli attivi purtroppo non calano, la cosa più negativa di tutta questa faccenda è questo valore. Attivi 5.802.000 che sta salendo ancora, anche se meno rispetto ai giorni precedenti. Vedete, solo 35.000 rispetto ai giorni precedenti che segnavano 120.000, 80.000 eccetera, giorno dopo giorno. Però finché noi non vedremo calare, calare in maniera importante questo valore degli attivi, cioè degli attualmente positivi, saremo ben lontani dal dire che la pandemia è stata debellata, possiamo considerare sconfitto il coronavirus. No, non siamo assolutamente in questa fase, anzi 5.800.000 in grande accelerazione, basta vedere che il 13 di luglio, laggiù in fondo, eravamo a 5.200.000 e poco più, quindi sta continuando a aumentare questo montante degli attuali positivi. Purtroppo stanno aumentando anche i decessi, grazie a Dio aumentano anche i guariti, però non è sufficiente perché la sommatoria è negativa, quindi il risultato è negativo a favore di un aumento dei positivi. Stiamo parlando naturalmente di dato globale mondiale, purtroppo questa è la situazione. E domande Marco? Quindi prima di salutarci allora mi permetto semplicemente di, visto i numeri anche della nostra legione Liguria, che speriamo siano numeri temporanei che già nei prossimi giorni daranno altri indicatori, però continuiamo a raccomandare ognuno di noi a usare la mascherina quando serve, quando giustamente i regolamenti e le ordinanze locali, comunali e regionali la obbligano, senza considerare la situazione non tanto sotto controllo ma superata, non è assolutamente superata. Siamo in una fase borderline, almeno a livello nazionale e anche a livello Ligure, però come vedete con i dati di oggi, lo sanno dimostrare, non siamo ancora in una fase assolutamente superata, assolutamente no. Quindi usate la mascherina, usiamo l'app immuni per un discorso di tracciabilità nel caso in cui ce ne fosse esigenza per chiudere e isolare nel più veloce momento possibile un eventuale focolaio e godiamoci l'estate. Grazie Marco per lo spazio, naturalmente lo rinnoviamo giovedì prossimo, sempre qui alle 20 su Entella TV. Grazie.